La Guardia di Finanza di Salerno, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e del Capoluogo, nello specifico dal PM Antonio Cantarella, ha individuato un dipendente della regione Campania che si assentava dal proprio luogo di lavoro senza alcuna autorizzazione. Il responsabile, una sessantenne di eboli, impiegato presso il Servizio Territoriale e Provinciale di Salerno, era già da tempo seguito dalle fiamme gialle della locale prima compagnia, che hanno così rilevato gli strani movimenti di ingresso e di uscita dall'ufficio. Il modus operandi era semplice e collaudato, timbrava regolarmente il cartellino per attestare la formale presenza in servizio e si allontanava subito dopo, indisturbato per sbrigare faccende personali. Grazie ai tradizionali servizi di appostamento e pedinamento è emerso in particolare come l'indagato durante le ripetute assenze dal lavoro, che si protraevano anche per l'intera giornata, si recava ad eboli per raffiancare il figlio nella gestione di una pizzeria di cui i due sono comproprietari. L'impiegato al quale è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è accusato di false attestazioni o certificazioni e truffa aggravata per il presunto danno patrimoniale causato alla regione, dalla quale continuava comunque a percepire lo stipendio, anche per il tempo speso a dedicarsi ai propri affari. In caso di condanna rischia il carcere fino a cinque anni e la multa fino a 1.600 euro oltre al licenziamento.